Una firma per dire che Roma chiede regole più restrittive sul gioco d'azzardo. L'ha messa il sindaco Ignazio Marino vicino a quella di altre centinaia di sindaci italiani. È il Manifesto dei Comuni per la Legalità contro il Gioco d'Azzardo. Il fenomeno ha crescite impressionanti, con 15 milioni di giocatori abituali, di cui un milione dipendenti in modo patologico. Una vera e propria malattia che devasta, oltre ai patrimoni, le persone, le famiglie, la sfera degli affetti. Una schiavitù psicologica da combattere con sostegni terapeutici e normativi. Cosa possono fare i comuni contro il gioco d'azzardo? Beh, è quello che chiediamo oggi con questa firma all'appello dei sindaci contro il gioco d'azzardo. Possono mettere delle restrizioni, delle regolamentazioni, però insomma molto dipende dalla normativa nazionale. E in questo appello è previsto proprio questo, che ci sia una nuova normativa a livello nazionale e che poi i sindaci abbiano il potere di ordinanza proprio per l'apertura di queste attività che sono proliferate in maniera smisurata nella nostra città e che prevedono tutta una serie di problemi collaterali che insomma sono sotto gli occhi di tutti, in degrado, in alcuni casi anche di illegalità. Quindi insomma i comuni possono fare la loro parte, però serve anche che poi Parlamento e Governo leggiferino perché su questa materia la loro competenza è fondamentale, è sostanziale. A Roma solo nel quinto municipio si contano 110 sale da gioco ed è la capitale ad ospitare quella col maggior numero di postazioni, circa 900, la più grande d'Italia. E non è vero che il gioco aiuta l'economia del paese. Si calcola infatti che gli italiani spendano 85 miliardi di euro l'anno, lo Stato ne incassa 8 e 6 ne spende per curare i giocatori patologici. Le mafie profondamente penetrate nel sistema dell'azzardo guadagnano, la stima è per difetto, 30 miliardi di euro l'anno. Per questo contrastare il fenomeno significa stare dalla parte della legalità.